Xperia Neo, fotocamera da 8 megapixel, registrazione video HD, processore da 1 GHz, non dual core, belle le finiture, sicuramente materiali che al tatto danno una sensazione migliore rispetto al fratello con tastiera Pro. Vediamo subito il sistema operativo che troviamo su questo telefono, 2.3.1, menu, anche qua personalizzato da Sony Ericsson, fluidità decisamente buona del telefono, entriamo nella messaggistica, vediamo la tastiera che è sempre un punto che mi piace provare sui telefoni, anche qua correttore inglese, buon feeling generale della tastiera. Camera anteriore per le videochiamate, LED sensore di luminosità ambientale, anche qua LED notifica di accensione del telefono, su questo Sony Ericsson voglio farvi vedere anche il software della fotocamera, ovviamente switch radio tra fotocamera e videocamera, e anche qua possibilità di girare video a 720p in HD.